Cari fratelli e cari sorelle in ascolto, buongiorno. Gesù dice, venite a me voi tutti che siete affaticati e oppressi e io vi darò riposo. Al Signore che ci accoglie, che ci invita a deporre su di Lui qualunque peso, che ci dona anche nella stanchezza o nel dolore il suo riposo e la sua pace, a Lui sia la gloria. Amen. Dal Salmo 92 leggiamo È bello celebrare il Signore e cantare le tue l'odio altissimo, proclamare al mattino la tua bontà, la tua fedeltà ogni notte, sulla lira a dieci corde e sulla cetra, con la melodia dell'arpa. Poiché tu mi hai rallegrato con le tue meraviglie, o Signore, io canto di gioia per le opere delle tue mani. Ci raccogliamo in preghiera. Signore Dio nostro, tu compi meraviglie su tutta la terra. Da un'estremità all'altra le tue testimonianze parlano di te, raccontano il tuo nome, le tue liberazioni e la tua fedeltà. Tutto è armonia nella tua opera e in essa ogni essere umano e ogni cosa creata trova il calore che dà vita. Noi, Signore, ti benediciamo perché questo tuo amore lo hai reso perfetto e limpido nel tuo figlio Gesù. In Lui troviamo ristoro e riposo. In Lui i nostri affanni e le nostre fatiche trovano riscatto. In Lui e per Lui ti rendiamo grazie. Amen. Grillo dello Signore Con tutto il buon Per te mi riempi di felicità Alleluia Dall'Evangelo di Giovanni leggiamo al capitolo 5 dal versetto 1 a 9 Dopo queste cose ci fu una festa dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Ora a Gerusalemme presso la porta delle pecore c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha cinque portici. Sotto questi portici giaceva un gran numero di infermi, di ciechi, di zoppi, di paralitici, i quali aspettavano l'agitarsi dell'acqua. Perché un angelo scendeva nella vasca e metteva l'acqua in movimento. E il primo che vi scendeva dopo che l'acqua era stata agitata era guarito di qualunque malattia fosse colpito. Là c'era un uomo che da 38 anni era infermo. Gesù veduto lo che giaceva e sapendo che già da lungo tempo stava così gli disse Vuoi guarire? L'infermo gli rispose Signore, io non ho nessuno che quando l'acqua è mossa mi metta nella vasca e mentre ci vengo io un altro vi scende prima di me. Gesù gli disse Alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. E in quell'istante quell'uomo fu guarito e preso il suo lettuccio si mise a camminare. Cari fratelli e cari sorelle oggi vorrei parlare con voi di attesa e di guarigione di come attendiamo nelle nostre vite un cambiamento e come viviamo questa attesa e anche di come siamo tutti in fondo bisognosi di guarigione nel corpo e nella vita. Entrambi questi temi sia l'attesa che la guarigione sono ricorrenti nella Bibbia l'attesa della liberazione l'attesa del Messia l'attesa del regno ma anche come appunto in questo testo l'attesa proprio della guarigione. Ci viene raccontato nel testo biblico che una grande folla era sotto i portici di una fontana una folla di infermi di zoppi, di ciechi, di paralitici e lì attendeva. La fontana era chiamata Betesda che in ebraico significa casa di misericordia e lì aspettavano un evento di misericordia che cambiasse loro la vita. Non sappiamo esattamente bene che cosa accadesse presso quella fonte il racconto dell'angelo suona più come, diciamo così una leggenda che altro tanto che manca addirittura in molti manoscritti e viene anche nelle nostre Bibbie tante volte citato tra parentesi. Quello che sembra essere chiaro è che quello è un luogo di speranza dove sono avvenute delle guarigioni e dove molti si recano dopo aver perso ogni altra speranza. Cercano insomma tutti quanti misericordia aspettano un segno di misericordia nelle loro esistenze. Ed è strano che questa folla in attesa abbia poi una simile assonanza con i dereliti del testo di Isaia che annuncia la venuta del Messia testo che dice ecco il vostro Dio verrà egli stesso a salvarvi allora si apriranno gli occhi dei ciechi e saranno sturate le orecchie dei sordi allora lo zoppo salterà come un cervo e la lingua del muto canterà di gioia. Le guarigioni che Gesù compie sono uno dei segni messianici uno dei segni che annunciano che il regno è vicino perché il Messia viene e gli ultimi i miseri della società vengono riscattati. Ma nessuno di coloro che sono in attesa sembra essere in attesa del Messia piuttosto sembrano essersi lasciate andare così a un'attesa illusoria di un'acqua che si agita che dovrebbe guarire come certi viaggi a Lour in cui avvengono certo probabilmente anche delle guarigioni ma soprattutto si offre a chi non ha più speranza un qualcosa in cui sperare ancora una volta. Abbiamo dunque una folla che attende un cambiamento nella sua esistenza e che ha perso ogni speranza cerca qualcosa in cui rifugiarsi ancora. Come noi stessi siamo in attesa di un mondo che cambi di un cambiamento nelle nostre esistenze dell'avvento lo diciamo tante volte di un mondo migliore e sentiamo spesso di aver perso ogni speranza e allora ci rifugiamo in qualcosa di più appagante ma illusorio come un falso benessere o una parvenza o una parvenza di felicità. A Bethesda avviene questa attesa di un cambiamento che ha perso della sua capacità di sognare e di affidarsi a Dio trasforma la nostra realtà e come la casa della misericordia diventa tante volte un luogo di soprafazione di egoismo così diventa il nostro mondo la nostra realtà in cui cerchiamo solo il nostro utile e non siamo più capaci a pensare anche per l'altro o per l'altra nostro prossimo. A Bethesda infatti se non hai qualcuno che ti aiuta se non sei più veloce degli altri se non ti fai avanti potremmo dire a spintoni non ottieni nulla. Qui dunque giunge Gesù qui si avvicina a uno degli infermi che è sul suo lettuccio come ci è detto da 38 anni non sappiamo quale sia la sua infermità ma la parola usata indica la mancanza di forze e le forze sembrano mancarne non solo fisicamente ma anche spiritualmente. Certo quest'uomo non è stato fortunato nella sua esistenza ma sembra essere ammalato anche direi e soprattutto di fatalismo. È lì presso la fonte e non spera più neanche in essa perché tanto da solo non ce la farà mai e per di più non c'è nessuno che lo aiuti. Si sente intrappolato nel suo destino e non sembra neanche avere più la volontà di guarire veramente. Infatti alla domanda di Gesù non risponde affermativamente ma solo indica quante e quali cose gli impediscono una guarigione. La domanda di Gesù è strana sembra una domanda retorica vuoi guarire altrimenti che ci starebbe a fare lì? Oppure è provocatoria sei sicuro che vuoi guarire? Come mai allora sei ancora qui? Possibile che non sei mai veloce abbastanza o che non è almeno un amico o un conoscente che possa fare qualcosa per darti una mano per aiutarti? Sicuramente questa è la maniera in cui la capisce l'uomo che infatti sembra giustificarsi e dice non ho nessuno che mi aiuti come dire anche fra gli ultimi c'è sempre qualcuno che è più ultimo degli altri la casa della misericordia è in realtà la casa della soprafazione e della legge del più forte e quindi evidentemente la domanda non è retorica come vediamo dalla risposta la risposta ci dice che l'uomo ha già perso la volontà di guarire qual è la reazione di Gesù a questo punto? Gesù non attende una risposta affermativa ma indica all'infermo che i passi per la guarigione li può fare lui da solo se c'è la volontà di guarire e l'azione di Cristo un invito all'individualismo no un invito a non aspettare sempre che altri facciano il primo passo che se altri non mi aiutano allora me ne resto fermo dove sono nella mia infermità nei miei problemi la parola di Gesù compie il miracolo e l'uomo è guarito senza che abbia risposto affermativamente né che abbia espresso la sua volontà di operare come Gesù aveva detto ma l'azione di Dio nella sua vita lo induce a credere e a provare e scopre così che può alzarsi può camminare può anche portare addirittura il suo lettuccio prendi il tuo lettuccio c'è sempre questo elemento del portare con sé il proprio mezzo del tempo della malattia memoria della malattia come opportunità per aiutare gli altri e non più come una prigione cioè lì si vive la presa di coscienza della propria liberazione il guaritore ferito e questo non perché il male ci giunge per insegnarci qualcosa ma bisogna anche imparare una volta vissuta la sofferenza a non far finta di niente quella è la nostra vita è il nostro nuovo bagaglio noi tutti e noi tutte siamo in attesa talvolta con speranza talaltra sentiamo che non ce la facciamo più Gesù non aspetta un sì ma libera comunque anche a noi viene chiesto cari fratelli e care sorelle se vogliamo guarire anche a noi viene chiesto di prendere coscienza della nostra situazione qualunque essa sia di riconoscerla e quando la riconosciamo e riconosciamo che non siamo capaci di fare nulla Gesù ci annuncia che possiamo camminare che lui stesso ha già operato per noi il cambiamento e che ora non dobbiamo fare altro che prendere il nostro lettuccio cioè prendere la nostra debolezza la nostra fragilità e con esse muoverci lungo la via della testimonianza e della speranza l'attesa anche per noi è finita e possiamo avanzare lungo le vie della liberazione che in Gesù Cristo è già stata compiuta Amen Ci raccogliamo in preghiera Raccoglio Signore le preghiere che salgono a te da ciascuna e ciascuna di noi tu solo sai ascoltarci e comprendere tu solo vieni a noi nel momento della gioia per insegnarci a condividerla con i fratelli e le sorelle nel momento del dolore per darci contro ogni evidenza la certezza che non siamo abbandonati concedi concedi anche a noi di saper ascoltare e comprendere non permettere che passiamo accanto ai tanti e alle tante che soffrono anche oggi in mezzo a noi senza essere prossimo per loro a nostra volta come tu ci insegni ad esserlo in Gesù Cristo nel suo nome ti diciamo Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome il tuo regno venga la tua volontà sia fatta come in cielo così anche in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non esporcia la tentazione ma liberaci dal male poiché a te appartengono il regno la potenza e la gloria nei secoli dei secoli Amen Beato il popolo che conosce il grido di gioia esso cammina o Signore alla luce del tuo volto esulta tutto il giorno nel tuo nome e gioisce della tua giustizia andate cari fratelli e sorelle e portate al mondo la grazia di Cristo l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo e che la benedizione di Dio accompagni i vostri passi ora e sempre Amen Aben Aben Grazie a tutti